Vi racconto una storiena stupenda che mi ha raccontato. Fare lezione a tutti i nostri uomini all'estero sulle storielle da raccontare, perché sono il pepe di ogni incontro. Quando si è depressi, preoccupati, una storiella pulisce il cervello dal pessimismo, dai pensieri grigi negativi e instaura tutto un altro clima tra le persone che si incontrano. Putin mi ha raccontato la sequente storiella. Berlusconi che mi dice ha grande fortuna in tutta la Russia. Berlusconi cade. Nella caduta. Però passo davanti a una finestra del decimo piano. Per lezione a tutti i nostri uomini all'estero. Ahah! Grazie a tutti Grazie a tutti Salto sulla destra c'è una bellissima ragazza Dovevi vederla? Una bellissima ragazza bionda Che riceva intensamente un libro Mi sono fiontato E ho cercato Di cominciare una conversazione Niente da fare Allora a un certo punto proprio anche forte Signorina Ma lei legge con una intensità straordinaria Di che cosa parla questo libro? E lei mi ha guardato e suavemente mi ha detto Parla Dell'amore E lei legge con una scena E che cosa ne ha insegnato di così importante Visto la sua straordinaria attenzione Mi ha insegnato due cose fondamentali Che gli amanti cessualmente più potenti sono gli altri E quelli più sentimentalmente forti Quelli più comandici sono i napoletani E allora io le auguro la mano di tu signorina Permette che mi presenti Mohamed Esponzo Diffidate da coloro che non sanno niente E soprattutto Persani e regioni di Chiesa non vivono mai Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler e Kettering Dopo un po' che Hitler è morto i suoi sostenitori Vengono a sapere che è ancora vivo Lo cercano dappertutto, lo trovano Führer devi tornare, la democrazia ha fallito Ti aspettano tutti Dice sì Però ha una condizione La prossima volta Cattivi eh Cattivi di Chiesa non vivono Io devo dire che sono esperienze fondamentali Nella vita Ho passato un sabato, una domenica, un lunedì Con tre donne svedesi Queste qua E vogliono che passino con carletto Sabato, domenica e lunedì Andiamoci nel placebo Prendi quante ne vuoi E poi vieni a dire Lunedì Ci hai fatto bella figura Alla mattina apre la farmacia E tra le persone che aspettavano L'apertura della farmacia In fondo c'era anche il carletto Ah, meno male Allora Sono proprio contento Allora, meno male E' andato bene Il placebo ha funzionato Arriva carletto lì e lì E allora Com'è andata carletto? Una figura di merda E' andata carletto? Sono abbastanza rotto Immagerei a fare i fattorini A pulire i ceci 5 Stelle è il partito dei disoccupati Vi venire a morire di materiale perché è giovane e bello e anche abbronzata. Penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Mi hai detto parlare da zonorosi binti. Sei sempre più bella che intelligente. Visto. Roma. E qui è stata fondata. Roma è re. Quanto è stato fondato? Nel 753 a.C. E che giorno? 21 di aprile. Rosso di sera. Quel tempo si spera. Quanto è stato fondato? Quanto è stato fondato? Quanto è stato fondato? Quanto è stato fondato? decidono di prendersi una vacanza e se ne vanno dice anche noi dobbiamo provare l'emozione della caccia se ne vanno a caccia e il maresciallo dice al primo prova tu, questo entra nel boschetto para esce fuori a giudicare dal pelo si direbbe una lega a giudicare dal piume si direbbe un fagiano tocca al maresciallo a giudicare dai documenti si direbbe un comunista all'improv名 ci sono la scusca Grazie a tutti. 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 E questo è Silvio Berlusconi.